Ciao sono Magnus e oggi siamo qui su Noted Last Song, ieri non ci siamo visti perché ho dovuto recuperare un po' di emissioni per sbloccare un po' di cose e per portarvi poi altre cose, man mano che andremo avanti capirete di cosa si tratta. Ho recuperato anche un'altra spada, martello, però non è che mi ha gradato, ho cambiato un po' di cose, Velta lo vedete è qui ma affrontiamo in un altro momento, andiamo a parlare con Pulcinella. Io so tutto, ho tollerato le tue divine scorribande con quelle vecchie reliquie, ma incidi queste parole nella tua anima di legno, un dio tu non sei, nemmai vi sarai uguale. Ci ho detto, qualunque sarà il nostro finale, comporre insieme la canzone del cambiamento è stato sensazionale. Presta attenzione a ogni passo, ci attende la più terribile delle sfide. Presta attenzione a ogni passo, ci attende la più terribile delle sfide. Con questi non si parla? No, vabbè. Entriamo. Ok, sono un po' preoccupato, hai dubito delle sfide. Allora, tra l'altro ho cambiato anche un po' di cose, ci dovrebbe dare una maggiore possibilità anche di ricarica dei versi. Grazie a uno di voi che mi ha dato un consiglio, mi ha detto no perché non le usi, è fondamentale, è vero, perché obiettivamente spesso e volentieri a volte ci capita. Non riuscire a svolcare perché ho visto che a distanza riusciamo a fare molto più danno, il problema è che se non si ricaricano diventa un problema. Ma che è? Ah. L'arma! Questo è l'inizio della fine, amico mio. L'ha già detto. Strale velata, specchio perverso della mente spezzata di Arlecchino. Ti ringrazio. La tua forza e la tua volontà sono cresciute oltre ogni dire. Mi sono adirato per la tua disobbedienza, eppure ora è il maestro a imparare dall'allievo. Se ti ho maltrattato non è stato per crudeltà. Questo piano, questo sogno, questa redenzione di un mondo stagnante. Da un'eternità questa tragedia infesta e tortura la mia mente. Mio fratello, i miei mentori, i miei amici, la mia amata, tutti si rivoltarono contro di me. Fu un dolore straziante. Il tempo divenne il mio unico alleato. Il tempo per pensare, tramare, covare rancore. Era tutto ciò che avevo. Mi permese di concentrarmi, di purificarmi. Strappai via ogni parte di me, finché non rimase altro che forza. Mi liberai della debolezza, come fosse un mantello. Ma era ciò che gettai via, a rendermi umano. Può un pazzo comprendere la sua pazzia? La risposta mi spaventa più di ogni nemico. La follia ha danzato nell'oscurità della mia mente, finché tu non hai riacceso la fiamma della speranza. Come una melodia d'infanzia che giunge all'orecchio di un adulto stanco. Tu echeggi il mio passato. Presta attenzione a ogni passo. Ci attende la più terribile delle sfide. Comunque grazie sempre ragazzi, perché mi avete inondato di consigli. Soprattutto senza spoilermi niente, eh. Che è tanta roba. Cioè, dare un consiglio. Cercando comunque di non rivedarti alcune cose. Lo apprezzo tanto. Allora. Sai che ci siamo? E sì. È l'ultima corda? Lascia della roba, ho visto bene. Sì, ci possiamo pure potenziare, ma francamente. Vi dico la verità. Da un certo punto ho recuperato anche armi migliori, ma... Io non sono uno che cambia tantissimo. Mi abituo a certe abilità. Poi, beh, cioè a certe abilità. A certi tempi di combattimento. Poi basta. Se devo cambiare troppo, poi vado troppo in difficoltà. Però, veramente, queste cose me le prendo. Vabbè. Ci blocchiamo questa. A riposare niente, tanto non manco combattuto. Allora, credo che sia questo il punto, eh. Questa è la fiala. Bambino. Infuso. Vediamo un po'. Dove si entra? Ma che è? Ho sbagliato. Oh, qua c'è questa. L'ho dimenticato di qua. Ah, pensavo non si entrasse. Ah, l'impetuoso vortice della creazione. Magnifico. Non trovi? Orbene. È giunta l'ora dell'atto finale. C'era qualcuno. Non ho capito perché non me l'aveva messo la... Questo. Percepisco forse paura. Ma no, all'archino. Adesso vediamo un po'. Se riusciamo... A rompere... Il culo. Non voglio essere volgare, però... Lo spettacolo privato tutto per me. Ok. Bastardo. Non voglio essere volgare. Non voglio essere volgare. Alla. Se luce. Ah, no. Pensavo di farlo meglio. Ha parato. Io la voglio conservare. Questa è forte. E lo c'è? Sto iniziando a stancare. Eh, pure io. Vabbè, quasi... Che cazzo sta facendo? Oddio, sei ricaricato. È solo una grazia che ti ho concesso. È solo una grazia che ti ho concesso. No, no, no. È tua, ti cazzo. Danza per me. Ma non avevo parato, no? Eh, dai. Oh, ok. Fede iniziare. Eh, ma questo non va bene, eh. No. No, 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 no. Vabbè. E come neanche... No, no, no. Ti prego, esci. Eh, dai, curati. Il colpo fortunato. No. Avanti, dai. Che doce, dai. Eh, dai. Ma da volo, eh. Oh, Gesù, un'altra volta. Vabbè. Eh, però... Oh, che, 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 che cazzo? Oh, burattino. Dov'hai? Burattino. Che fa? Oddio, santo. Ecco qua. Eccolo qua. Oh, che, 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 che. Oh, che, che. Oh, che, che, che. Che palle sto fatto qui ogni volta No questo non mi piace sta mossa che fai Oh ciazzo Ah questa ok No 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 Molto brutta questa patta che Ancora Oh ciazzo E basta Guarda Aia Però che palle c'è si muove in continuazione non riesco Ciazzo Ma come non manchiamo No 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 di qua no Vai Sì Niente da fare raga Veloce No che cazzo Questa non mi piace Questa è buona Ma che cazzo è morta Eh vai No come hai Non è possibile Una copia tanto rozza Pulcinella Pulcinella Sei sempre stato Destinato a vivere nella mia ombra Questa vittoria Non è tua Stolta Stolta La tua esibizione passerà alla storia amico mio Tutti si alzeranno per salutare l'alba del nuovo mondo Ora Concludiamo questa farsa Allunga la mano Un copione non mio limitava il mio potere Non avevo altra scelta Soltanto il riflesso distorto del suo viso corrotto Poteva porre fine alla tragedia Così ho provato E riprovato Ancora e ancora Il tempo era il mio unico lusso Creatore Creazione e calco riuniti Recipiente per la rinascita Balsamo per un mondo ferito Ora Allunga la mano Adempi al tuo scopo amico mio Adesso sta Ah ecco Allunga la mano C'è ancora tanto da fare C'è ancora tanto da fare Potrebbe essere un'idea per dire Ci sarà un continuo Proseguo Benissimo che ci sono anche Vi annuncio questa cosa Anche altri finali Che sicuramente ci andremo a fare Per adesso naturalmente abbiamo visto Questo finale qui Molti ne hanno parlato un po' male Vi dico la verità Io credo comunque Dirò sicuramente la mia opinione In un altro video Ma Mi ha piacevolmente sorpreso Certo è normale Che non è che stiamo parlando Di un capolavoro Però Francamente vi dico la verità Capolavori oggi Non è che ne escono tanti Comunque Grazie a tutti sempre Per il supporto per questa serie Mi raccomando Aspettate anche gli altri Finale Che arriveranno sempre sul canale Grazie a tutti quelli Che hanno seguito E supportato questa serie Ci vediamo sempre al prossimo video E alla prossima serie Bye Ciao a tutti Ciao a tutti